Contram Spy, il tour operator Esitur, presenti alla Borsa Internazionale del Turismo. Abbiamo con noi il presidente Stefano Belardinelli che ha colto al volo questa bella occasione di vetrina per Contram e per tutto il territorio, presidente. Mobilità sostenibile, territorio, ambiente. La regione Marche sta facendo veramente una grande attività su questi settori. Lo vediamo anche sullo studio di tutto l'aspetto che riguarda Marche Outdoor. Noi vorremmo integrare questa intermodalità dalla mobilità dolce, dal trekking, dalle bike alla mobilità pubblica in un sistema territoriale che coinvolge i giovani, i meno giovani, il turismo. Sicuramente in questo contesto l'operatore turistico Esitur è un importante punto di riferimento. Vuoi per l'esperienza sull'incoming, vorrei ricordare anche le attività estive e sportive con i campioni olimpionici e quel turismo anche enogastronomico e ambientale che piace molto al turismo di eccellenza, ai paesi nordamericani e non solo quelli europei. Tutto questo aspetto ci vede proprio in prima fila con una grande attenzione, anche per affrontare questa transizione ecologica, questa attenzione all'ambiente in un contesto complicato dalle emergenze mondiali, ma che non può toglierci quella speranza e quell'ottimismo che sia Contram e sia Esitur hanno sempre.